Questione ILVA, 400 crispianesi sono dipendenti dell'ILVA, benissimo, mi scusi, ne ho saltati 26, una questione davvero drammatica perché poi voi parlate di chiusura, non la chiuderete mai, le ultime parole del ministro Costa di oggi la dicono lunga, ora siete passati al governo e l'ILVA non si chiude, le solite parole di promesse di Marinaio. Io rispetto sempre la tua opinione Luigi, nel senso che noi abbiamo sempre parlato di chiusura delle fonti guinanti programmata e di un piano di riconversione economica che non può certo avvenire in un mese, in due giorni. Avete parlato prima di chiusura, poi chiusura delle fonti guinanti, poi chiusura progressiva e poi ora non si dice più così, si dice dobbiamo far applicare l'AIA, stiamo giocando a ribasso. No, questa è sempre la tua opinione, io la rispetto ma l'idea invece è quella di una chiusura progressiva mettendo prima di tutto il rispetto e la salvaguardia dei posti di lavoro, di tutti gli operai, dare e impiegare in una riconversione economica, in delle bonifiche e naturalmente pianificare una possibilità di uscire fuori da questo anti-brand che frena tutte le altre possibilità economiche che questo territorio offre.